La situazione meteorologica nel fine settimana è prevista caratterizzata da un'alta pressione che determinarà tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Quindi già sabato prevediamoci un genere sereno, poco nuvoloso, salvo qualche temporaneo annuvolamento segnatamente sulla fascia prealpina, però di poco conto. Temperature in aumento, le massime arriveranno fino a 28-29 gradi localmente sulla pianura fermandosi a 24-25 gradi sulla costa grazie al vento di brezza. Zero termico sale verso i 3.500-3.600 metri in montagna. Domenica sarà anche una giornata caratterizzata dal sole prevalentemente salvo qualche temporaneo annuvolamento di nuovo più probabile in montagna, poca cosa. Temperature in ulteriori rilevamento, potremo toccare anche localmente i 30 gradi in pianura fermandoci a 25 sulla costa sempre grazie all'effetto mitigatore della brezza dal mare. Per quanto concerne l'inizio della prossima settimana ci aspettiamo ancora tempo stabile, soleggiato, quindi bello, con qualche nuvolamento modesto pomeridiano, venti di liberezza e temperatura ancora sui valori simili a quelli di domenica. Lo zero termico, tra l'altro in montagna, salirà verso i 4.000 metri, un valore rilevante anche per la stagione. E dall'osservatorio metri dell'ARPA, Arturo Pucillo, vi saluta.